E' martedì 24 ottobre, buongiorno, è il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemulisse, c'è la politica in apertura con il bilancio a quattro mesi dalle elezioni regionali del governo Roberti, i primi risultati riguardano conti regionali e sanità, questi gli ambiti nei quali si registra un positivo avanzamento, ce ne parla Pasquale Di Bello. Sono passati esattamente 120 giorni, quattro mesi dalle elezioni regionali che hanno affidato a Francesco Roberti la guida della Regione Molise. Un mandato forte col 62,24% dei consensi e una maggioranza solida in Consiglio regionale, che vede per la prima volta nella storia della Regione Molise, l'incremento di un consigliere di maggioranza, essendo questa passata da 12 a 13 elementi. Roberti siede sulla medesima poltrona, quella di Presidente della Regione, che fu di un altro termolese illustre, l'indimenticabile visionario Florindo da Immo. Coronamento di una carriera politica segnata da successi, la Presidenza della Regione arriva per Roberti, dopo aver ricoperto il ruolo di Sindaco di Termoli e Presidente della provincia di Campobasso. Va detto a bilancio di questi primi mesi che passo dopo passo i risultati di un'azione amministrativa concreta e pragmatica cominciano a vedersi. Se Roberti andasse a Pistoni, va detto, non sarebbe mai una Ferrari ma un sano motore a cingoli. Più che la velocità, infatti, in Molise serve qualcuno o qualcosa che dissodia attraverso un'aratura profonda un terreno compatto come la muraglia cinese. I risultati, i primi, si vedono carta canta, come si suol dire, a partire dalle carte che portano sopra scritti i numeri del bilancio regionale. Dei primi quattro mesi trascorsi, tre sono stati d'estate, ma il sudore buttato dal Presidente della Regione dall'assessore al bilancio Gianluca Cefaratti, non è stato dovuto all'AFA ma allo sforzo di far quadrare i conti che alla fine sono quadrati. Con l'iniezione di liquidità pari a 43 milioni di euro ricevuti dal MEF, finalmente si chiude la partita del bilancio preventivo 2023, in approvazione nei prossimi giorni. Soldi che si aggiungono a quelli di pari cifra previsti almeno per i prossimi tre anni, chiusi e corretti, va detto, anche i consuntivi 2021 e 2022, secondo le indicazioni della Corte dei Conti. Sul piano del comparto sanità va registrato il completo rinnovamento degli organi di governo dell'ASREM, un nuovo direttore generale Giovanni Di Santo e quelli sanitario e amministrativo Bruno Carabellese e Grazia Matarante. Sempre sul versante sanità ha due importanti risultati raggiunti grazie alla virtuosa collaborazione con la struttura commissariale, lo stanziamento di 1.800.000 euro per la riduzione delle liste d'attesa e la recente riapertura della Camera Iperbarica al Rino. Ultima, ma non certo meno importante, la decisazione di palingenesi amministrativa con il cambio ai vertici dell'amministrazione regionale di funzionari e dirigenti. Cambiamo argomento lotta alla solitudine e all'emarginazione. Il comune di Sernia aderisce a Breaking Isolation, un progetto a cui ha partecipato come partner per superare le barriere dell'emarginazione sociale e per promuovere iniziative di aggregazione ed integrazione. Il servizio è di Davide Gambardella. Combattere la solitudine e l'emarginazione nelle città di piccole e medie dimensioni. E' questo l'obiettivo del Breaking Isolation, progetto a cui anche il comune di Sernia ha partecipato come partner e vinto un bando finalizzato alla creazione di Action Planning Network, programma che offre una piattaforma per lo scambio e le conoscenze e buone pratiche tra città europee, promuovendo soluzioni partecipative integrate alle sfide urbane. È la seconda volta che il comune di Sernia partecipa ad Urbact e questa volta è a maggior ragione ancora più importante, proprio perché parliamo di isolamento sociale, un problema molto sentito nella nostra città, soprattutto per quanto riguarda gli anziani e le categorie più svantaggiate. Ciò vuol dire che da oggi inizieremo a lavorare con dieci comuni di tutta quanta l'Unione Europea, viaggeremo noi, verranno loro qui a di Sernia per imparare le migliori pratiche che vengono sviluppate in tutta quanta Europa. Questo ci servirà appunto a creare una serie di politiche che poi possiamo implementare sul territorio per affrontare concretamente il problema dell'abbandono sociale. riceveremo per l'implementazione di questo progetto 72 mila euro direttamente dall'Unione Europea, quindi sono fondi realmente diretti che ci verranno dati dall'Unione Europea e con questi 72 mila euro creeremo una serie di politiche guardando ai migliori esempi dell'Europa per poi portarli a casa e implementarli a casa nostra. Un gruppo di lavoro locale sarà costituito per favorire la cooperazione e lo scambio di idee fra diverse istituzioni e stakeholder. Il programma Urbact è un programma di sviluppo urbano che mira a mettere insieme varie città con le stesse problematiche per trovare soluzioni comuni. Nel nostro caso ci occupiamo di isolamento sociale, il progetto si chiama Breaking Isolation e mira a rompere l'isolamento sociale e a trovare delle breast practice, delle polisi che possano migliorare questa situazione. Nel nostro caso ci rivolgiamo sia alle persone anziane che magari sono in una situazione di isolamento ma anche purtroppo numerosi giovani che comunque si trovano in questa condizione. È tutto per il nostro Tg del mattino. La nostra rassegna stampa adesso con il giornale del Molise.it. L'apertura a 120 giorni regione, bilancio e sanità per Roberti arrivano i primi risultati e poi l'inflazione corre in Liguria. Molise penultimo al di sotto del 5%. Fratelli d'Italia cerebra un anno di governo Meloni, il paese sulla strada della ripresa. Prima riaperta il Partito Democratico verso la scelta del segretario regionale ovviamente il 17 dicembre e poi Termoli, l'istituto comprensivo Brigida. Vinci l'edizione 2023 del progetto Le biblioteche di Antonio. In arrivo 400 libri per ragazzi. Uno sguardo anche ai titoli del quotidiano del Molise.com. Il PD Molise cerca il candidato unitario per la segreteria regionale. Riaperta la camera iperbarica di Larino. Segnale positivo per la sanità molisane. Ordini bellici in mare, nuova operazione di brillamento interdetta alla navigazione. Un anno di governo Meloni a Fratelli d'Italia Molise e gli italiani hanno fatto la scelta giusta, ha detto il Premier. Poi Puledro precipita in un crepaccio chiesto l'intervento dell'elicottero per salvarlo. I titoli in evidenza anche su primonumero.it trascinato in tribunale dal parroco per i soldi della Madonna della Salute ha assolto il rappresentante del comitato feste di Castel Mauro. Per il giudice di Campobasso il fatto non sussiste. E poi al vietri di Larino. Roberti, il sogno di una sanità esempio. Atteggiamento del governo è già cambiato. Commissariamento ha fatto solo male, ha detto il Presidente della Regione. Scuola, il MIUR, annuncia il nuovo concorso per dirigenti scolastici. 587 posti, ma nessuno in Molise. Larino, dopo un lungo stop, ha riaperto la camera iperbarica. Anche qui è poi Molise-Roma. News dai parlamentari. Violenza a donne, numeri terribili e sottostimati. In nove mesi 90 vittime in Italia. Diamo uno sguardo anche ai titoli di press Molise-Lazio. Allora andiamo a leggerli. I Cerni ha tentato furti in una villa, arrestato un uomo, manutenzione da migliorare della variante sud di Venafro. Ritorna il premio in presa ambiente dal 16 ottobre. aperte le candidature per partecipare alla undicesima edizione. Poi Federazione Italiana Scienze della Vita, un'opportunità per gli studenti. Il Molise piange la scomparsa della grande benefattora, il professor Carlo Girardi. Security Day di posta italiale. Il ministro dell'interno Matteo Piantedò si incontra le donne e gli uomini vittime di rapina. Questi titoli in evidenza anche su press Molise-Lazio. Primo piano Molise adesso con l'apertura dedicata alla Regione in temi economici, bilancio, altra tegola sui conti, stop dei revisori. Il collegio dei revisori muove una serie di rilieri che non esprime giudizio favorevole per l'approvazione del rendiconto generale della Regione. Esercizio finanziario 2022. L'assessore Cefaratti rassicura subito il piano di rientro del disavanzo e poi il previsionale 2023. Il punto di Luca Colella, decessi e nascite di vario incolmabile. C'è poi la buona notizia che arriva da Larino, camera iperbarica di Larino, punto di ripartenza della sanità. Il servizio garantito e presto sarà implementato da Roberti Addisanto, eccellenza per attrarre i pazienti. E poi Palazzo Daimmo, sede del Consiglio regionale, cambio al vertice del Consiglio, Claudio Iocca, nuovo segretario, fondi PNRR, medicina generale, assegnati al Molise 1,1 milioni di euro per le borse di studio. Isernia, incompatibilità, torna in aula il caso Falcione, i legali affilano le armi da Francavilla, rifiuti nel cimitero, sale a 2. Il numero dei molisani indagati. Settore in agitazione è quello delle concessioni, attesa la Cassa situazione, i balneari presentano il conto a Meloni, mantenga le promesse, dicono e hanno fatto sapere. Poi sotto la testata ci sono i titoli di sport, lupi, 6 punti in due gare, funziona la cura per Golizi, Cilincione, rotta, cambiata. Per quanto riguarda le notizie da Casa Campobasso, Termoli, via l'allenatore Martino, si fanno i nomi di Cornacchini e Dadderio, vasso Girardi, esonerato Mister Bifini, Mandola in pole, Piace, Zannini. Questi titoli in evidenza sulla prima di primo piano mulise. I quotidiani nazionali adesso ovviamente con le notizie dal fronte della guerra in Medio Oriente, ma c'è anche la riforma fiscale in evidenza sui quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera, liberati altri due ostaggi, annuncio di Hamas, sono donne israeliane, la trattativa sui prigionieri rallenta l'invasione. Morti il ragazzo e la pacifista italiani coinvolti nell'attacco, purtroppo nelle ultime ore la notizia anche di un altro decesso di una persona italiana. E poi Borrell, pausa umanitaria. Svezia, nella NATO, si di Erdogan. E poi la pop star, da bimba robò all'aborto, la versione di Britney Spears, l'autobiografia, gli scontri con il padre, la libertà negata. La riforma fiscale con l'acquita, se cambia la dichiarazione 7.30, precompilata, slitta il decreto sull'energia. Voto Meloni, uniti, grande risultato. Senato per le elezioni suppletive entra Gagliani, per quanto riguarda il collegio di Monza. Fugatti vince a Trento, per quanto riguarda invece la presidenza della provincia autonoma di Trento. Ovviamente la prima del Fatto Quotidiano. Andiamo a leggere i titoli. Sottosegretario sgarbi al governo in cassa casce d'oro. La legge lo vieta a due società per fatturare i compensi da mostre e premi. 300 mila euro in nove mesi. La Arsa SRL è intestata al segretario. La Estia SRL, la compagna, lo pagano comuni ed aziende private anche come capo della giuria di Miss Italia. Poi Israele, Stati Uniti e Italia, no alla tregua. Do a media su 50 ostaggi. Vediamo ancora gli altri titoli in evidenza. Consiglio dei Ministri, bollette, governo spaccato, salta il decreto energia, riforma tributaria, agenzia del fisco di mezzata, Lega e Forza Italia, altri condoni. E poi gli audio di Gian Bruno. Ancora Meloni teme frasi su di sé. Lollo mai favori. A, B, che sta per Berlusconi. Vediamo adesso anche la prima pagina di Repubblica con le notizie dal Medio Oriente. Si tratta sugli ostaggi. Conflitto in Medio Oriente liberate due israeliane per motivi umanitari con la mediazione della Croce Rossa. Negosiato su altri 50 civili prigionieri. Biden frena l'opposizione a Gaza. Vuole aumentare le forze degli Stati Uniti in campo. L'Unione Europea contro l'Escalescio. Il Cairo. Zone protette. Intanto dissensi fra i generali e Netanyahu sull'intervento di terra. Centropagina fotonotizie. Lo sciopero delle donne contro il gender gap. Ritorsione Meloni. Schiaffo all'uomo di media. 7 stop al DDL di Forza Italia. Fini. Giorgia è riuscita dove io ho fallito. Gagliane rete di Berlusconi. Intanto al seggio di Monza. Questi titoli in evidenza sulla prima di Repubblica. Andiamo a vedere anche quelli di Libero che apre così sulle elezioni. Non vincete mai la disfatta di Schlein e Conte. Gagliane eletto nel seggio del CAV. E a Libero dice penso sempre a lui. Gioia di Marina e Pier Silvio. Il leghista Fugatti stravinge in Trentino. Centrodestra oltre il 50%. Intanto c'è un'intervista al ministro Roccella. È la famiglia il vero bersaglio della sinistra. Dice la riforma accelera fiscale meno tasse più diritti è arrivato il nuovo fisco. E dunque erano questi i titoli e sono questi titoli in evidenza sulla prima pagina di Libero. Vediamo anche quelli di avvenire. Il quotidiano della conferenza episcopale italiana apre così nell'edizione di oggi. Spinta per la tregua. Ovviamente si parla di guerra. L'Europa e Mattarella chiedono almeno una pausa umanitaria. Biden prima gli ostaggi. Israele rinvia l'operazione di terra ma bombarda ancora la striscia. Liberate due donne trovata morta. Una cittadina italo-israeliana Crosetto visita il nostro contingente ONU in Libano. E poi a centropagina generazione azzardo. Giovani e del gratta e vinci alle scommesse. Elezioni la destra vince ancora ma litiga sulle pensioni. I titoli dunque di avvenire. Vediamo anche quelli del messaggero di Roma. Doppia apertura. Il titolo principale è questo. Gaza si tratta liberi altri ostaggi. Una notizia che abbiamo trovato anche sugli altri quotidiani. Come questa. Fisco più facile si paga con la carta di credito. La riforma estesa l'ha precompilata a tutti e niente avvisi in ferie. Avvisi appunto vietati in agosto e a dicembre. Poi il Consiglio dei Ministri si divide. Provedimento rinviato. I dubbi della Unione Europea sul decreto energia. In bilico i prezzi calmirati per la luce. In un disegno di legge poi agevolazioni su mutui e affitti. Gli incentivi a medici ed insegnanti contro lo spopolamento dei monti. Centropagina a Gagliani e il seggio di Berlusconi è la sua vittoria. Ha detto Gagliani. Il 51,4% nelle suppletive di Monza a Brianza per il Senato telefonate a Marina e Fascina. Dunque questi titoli del messaggero. Vediamo anche quelli del manifesto. Eccolo qui. Nell'attesa l'invasione da terra può attendere ma nel frattempo Israele intensifica i bombardamenti sui civili di casa allo stremo. Centinaia di raid tra domenica e lunedì e nessuna tregua in vista. Il 63% delle oltre 5.000 vittime dall'inizio della rappresaglia sono donne e bambini. Numeri terribili ovviamente. Nessuna tregua. La strage che c'è. La strage che si prepara. Firma al fondo Andrea Fabbozzi. E poi crisi climatica. Pinocchio occupa l'ingresso del MIT. Elezione il centro-sinistra vince a Foggia. Il voto in Argentina. Un'argine di massa all'avanzata di Mileni. Questi titoli del manifesto. Vediamo anche quelli del secolo d'Italia. Apertura politica elettorale. Le urne premiano il centro-destra e poi in primo piano il fisco. Il governo riforma lo statuto del contribuente. Crosetto visita i militari israeliani in Libano. Evitare l'escalation. E poi Hamas. Trovata morta Lilia Leavron, l'italo-israeliana. Purtroppo deceduta nel conflitto. I titoli della prima pagina della stampa. L'apertura Israele. Fronda contro Netanyahu. Andiamo a leggere. Tre ministri contestano apertamente la lineatura del Premier. Frenata l'offensiva di terra contro Gaza. Trattativa con Stati Uniti e Qatar. Hamas libera 50 ostaggi. l'Europa. Serve una pausa umanitaria. E poi a centro pagina fotonotizia. Il peso della crudeltà. Le confessioni di Giovanna Mezzogiorno. Le analisi. Massacro del 7 ottobre. Quelle immagini shock. Bimbi, poeti, medici, le vittime della striscia. Letizia Tortello. King Bibi sfiduciato anche dal suo popolo. E poi si parla di un anno del governo Meloni. Le paggelle al governo. Salvi estere e scuola. Bocciati diritti e cultura. Rimandata l'economia. Questa dunque la paggella che la stampa tributa al governo. Ed ovviamente la riforma fiscale come notizia. Anzi notizia la troviamo sul sole 24 ore. Fisco dichiarazione precompilata per tutti. Scadenza unica fissata al 30 settembre. Lo prevede il governo con il via libera e decreti su adempimento e statuto del contribuente. Leo avanti a ritmi serrati. Presto il decreto per rivedere le sanzioni. E poi ancora la guerra in Medio Oriente. Israele rinvia l'offensiva di terra a Gaza. Liberate altre due donne. Quindi titoli in evidenza sul sole 24 ore. Vediamo adesso l'edizione regionale del centro. Andiamo a leggere i titoli. IMU. Scambio di accusi in comune. A Pescara. Lite in consiglio fra Secce e Movimento 5 Stelle. Dopo la denuncia dei mancati incassi sotto la testata. Abruzzo. Gli effetti dei definanziamenti. tagli al PNRR. A rischio 1861. Grandi opere nell'intera regione. Tragedia di Licopiano. Processo d'appello con 10 nuove udienze. E poi ricerche in Abruzzo. Sparito. 17enne di Capistrello. La madre lancia un appello. Ex arbitro di calcio femminile. Lutto a Pescara. Muore a 49 anni. Lascia tre fili donati gli organi. Si tratta purtroppo di Roberta Olivieri. Roseto. Travolta in bici. Flavia. Condanna ridotta in appello all'automobilista. E poi ancora. Sturprata nel bagno della discoteca. Vezzano. 21enne. Va al pronto soccorso. E denuncia l'aggressione durante una festa. Ancora Pescara. Premio Borsellino. Con gli agenti delle scorte. Villa Santa Maria. La scuola dei cuochi. Rischia la chiusura. Caccio di Serecci. L'assalto alla capolista. Pescara. Tifoseria in fermento. Domani all'Adriatico. Attesi. 8 mila per la sfida alla Torres. Questa dunque l'edizione regionale del centro. Andiamo a vedere adesso anche quella di Teramo. Con i titoli in evidenza. Flavia. Pena ridotta all'automobilista. Roseto. La giovane investita ed uccisa. La condanna passa da 7 a 4 anni e 10 mesi. E poi da Teramo. L'imprenditore anticamorra incontra gli studenti. Premio Borsellino. E vedete anche la foto. E poi affama la madre. Finisce sotto accusa. Teramo. Una 42enne indagata per maltrattamenti nei confronti dell'anziana disabile. Tortoreto. Alviai lavori per le dune a difesa della spiaggia. A Mosciano. Candidatura a sindaco. Parte la sfida a 2 nel PD. E poi il calcio. Teramo. Giulianova. 13. Daspo. Per il derby del 1 ottobre. Fumogene. Bottiglie contro i poliziotti. Stadio. Vietato ai violenti. Uno sguardo adesso alla... Eccola qui. Alla edizione di Chieti. Lanciano e Vasto. Morta per le botte la sorella Neguai. Ortona. Il PM che del processo doveva uccidere. Invece la... Doveva accudirla. Scusa. Invece l'ha picchiata. E poi la scuola dei cuochi di Villa Santa Maria. Rischio visura. I timori della CISL per lo storico istituto Marchitelli. Ovviamente speriamo di no. Crolla un casolare. 54enne travolto. Vasto tragedia sfiorata in campagna. Il ferito trasportato in elito... In elito soccorso a Pescara. Chieti in servizio dal 1 novembre. Montaruli è il nuovo questore. A 58 anni arriva dalla Polferra. Prende il posto di De Cicco. Fresa Grandinaria rubano rama e dal traliccio provocano un blackout. Calcio di sere di dopo il pari nel derby. Il Chiedi ci appensa al Fano. Uno sguardo adesso alla prima pagina della edizione di L'Aquila Avezzano sul Mona. L'apertura. Ponte Belvedere un anno di lavori. L'Aquila cantiere sbloccato. Biondi posa la prima pietra. Opera monumentale. E poi bruciate tre auto. Un regolamento di conti fra spacciatori. Sisma dell'Aquila. Lucrò sulla casa crollata. Pignorato il nuovo alloggio. Stuprata nel bagno della discoteca. Avezzano il racconto shock della 21enne ai medici del pronto soccorso. E sono state avviate le indagini. Fossa. Operaio ferito da un paletto grave. Un 27enne soccorso dall'elicottero. Era su un traliccio. E poi l'Aquila. Tre arresti per lo spaccio di cocaina nella Movida. Sul Mona. Crisi politica. Voto decisivo. Martedì 31. In consiglio. Lasciamo le edizioni del centro per andare a vedere la pagina Abruzzo del messaggero. I titoli. L'apertura violentata dal branco in centro. L'Aquila. Ragazza aspetta il fidanzato. Andato a prendere l'auto. Circondata ed abusata. Parte la caccia all'aggressore stranieri. Sale l'allarme per la città. Sempre più insicura. Sotto la testata. Teramo. Flavia. Travolta. Uccisa dall'auto. Quattro anni all'investitore. Pescara. Operazione fatale. Morta l'arbitra. Roberto Livieri. Lascia tre figli. E poi Selecci. Pescara. Il momento della svolta. Domani. Super sfida. Alla Torres. La crisi. Credito. In calo. Da inizio anno. I prestiti all'impresa. A Benzano. Discoteca. 21enne. Denuncia uno stupro. Mi ha trascinato. E chiusa nel bagno. E poi la guerra. Abruzzo in prima linea. Gaza. L'Aquilano. Jacopo Inchini. Nella missione ONG. Avviso all'ex assessore. De Fanis. Pele Tangenti. Nella cultura. Corte dei Conti. Chiesto risarcimento. Di 115 mila euro. Infrastrutture. L'Aquila. Rinasce il ponte Belvedere. Via al cantiere. Posata la prima pietra. E ancora poi in basso. Benessere. Pescara si distingue nella classifica best. In coda Chieti. Il report regione in posizione bassa in Italia. Ma superiore rispetto agli altri territori del Mezzogiorno. Questa è la pagina Abruzzo del Messaggero. E chiudiamo la nostra rassegna stampa come di consueto con la gasetta dello sport. Andiamo a leggere i titoli. Si parla ovviamente delle sfide di Champions League in programma oggi e domani. Ma anche di campionato. La Juve sfida Milano dopo il colpo a San Siro. Gli ex bianconeri spingono Allegri. Ma ci vuole un rinforzo. Intanto la Fiorentina cade in casa con l'Empoli 0 a 2. A gancio fallito. Leao servono gol. Pioli chiede a Rafa meno cross e più blitz in aree. E poi Champions stasera con il Salisburgo. L'Inter totale. Inzaghi su ogni fronte. Può piazzarsi in testa al gruppo per poi tentare l'allungo. Nella corsa Scudetti in Germania. Napoli guida Quarell. Giorgiano va all'assalto dell'Union Berlino. Arriva De Laurentiis. Garzia dice siamo una famiglia. Il caso scommesso è ancora. Tonali va a patteggiare. La difesa punta a 10 mesi. di Stop Diritti TV con Dason e Sky. C'è l'accordo per 5 anni. Questi dunque i titoli della Gazzetta dello Sport. Con la quale chiudiamo anche la rassegna dei quotidiani. E il nostro primo appuntamento con l'informazione. Informazione di TeleMulisi. Che torna come sempre in diretta alle 14. Con il telegiornale a voi tutte e tutti. Grazie e buona giornata. Grazie. 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 Grazie.